Torniamo a parlare di REITs americani. Secondo me in questo periodo particolare molte quotazioni sono tornate a sconto o nella maggior parte dei casi a prezzi umani. E' proprio in questo periodo che la liquidità la fa da padrona per andare magari a prendere qualcosa a sconto o per andare a prendere qualcosa di nuovo. Ora ti dico tre aziende che ho nella mia voce list e poi ti dico anche un piccolo segreto. Tantissime novità subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto. Oggi vi faccio partecipare di una mia watch list, anzi di una parte di una mia watch list. Ti vado a dire le tre aziende che sto seguendo e che vorrei aggiungere al mio portafoglio. Come sempre non le vado ad approfondire ma le vado solo a presentare, a parlare del business e del perché le ho messe in watch list. Se vuoi un video approfondito su una o tutte queste aziende che vado a citare oggi chiedimelo pure nei commenti qui sotto e lo faccio con molto piacere. Perché ho detto solo una parte della mia watch list? Lo dico perché da ora in poi ho deciso di condividere anche dei contenuti premium o premium detto all'italiana. Come sapete questo canale ha come obiettivo di aiutarmi a raggiungere la mia indipendenza finanziaria ma solo YouTube non aiuta purtroppo per cui comincerò a condividere anche dei contenuti come dicevo prima di tipo premium. Lo farò sia qui su YouTube ma anche su Patreon. In questo modo chiunque abbia a cuore la crescita del canale e lo voglia supportare anche con un piccolo aiuto economico può farlo sia abbonandosi qui su YouTube oppure andandosi a iscrivere a Patreon supportandomi lì. Metterò gli stessi contenuti su entrambi alle piattaforme. Ho deciso di usarle entrambi in modo che tutti possano usufruirne senza dover per questo andare a destra e ammanca a creare nuovi account. Nelle sezioni premium oltre a tutte le mie watch list condividerò anche dei video dedicati e si potrà andare anche a parlare con me direttamente e con più semplicità visto che tutti i contenuti sono esclusivamente dedicati appunto a chi mi va a supportare appunto gli abbonati. Trovate tutte le informazioni nella descrizione del video qui sotto ma adesso basta andiamo al pc e parliamo di Travis per il 2022. Eccoci qui al mio pc e da un po' di tempo che non utilizzavo delle slide di PowerPoint ho deciso che è bello riprenderle perché sono ordinate danno anche un'idea visiva di quello che andiamo a presentare e riesco a fare anche un video un po' più corto più veloce e con meno interruzione di ehm a che di solito mi aiutano molto a pensare a quello che devo dire però allo stesso tempo mi fanno fare tanti tagli per il montaggio del video per qui cerco di andare un po' come uno stream of consciousness tutto di fila. Facciamo sempre le solite premesse che sono importantissime. Queste aziende tendono a crescere nel tempo ma questo non significa che andranno ad avere un capital gain in futuro. Le performance passate non sono mai quelle che vanno a definire le performance future. Si tratta di aziende che possono adattarsi sicuramente alla mia strategia di investimento ma che non potrebbero essere adatte a tutti per cui questi sono semplicemente delle mie idee di investimento poi ognuno deve andare a fare i propri studi. Considero queste aziende perché penso che abbiano un vantaggio competitivo. Potrei sbagliarmi, potrei avere ragione. Questo è semplicemente basato sulle mie aspettative e sui miei studi. Ognuno come dicevo prima deve andare a fare i propri. Si tratta di aziende solide e rodate che hanno uno storico piuttosto importante per cui non si tratta delle ultime spacco di quelle che sono nate l'altro ieri. Un'azienda che usa in un mercato solido e forte per cui insomma danno delle basi per poter costruire qualcosa. E infine per ultimo ma non per importanza questi non sono consigli finanziari non sono consigli ad investire in questi asset né tantomeno ad investire ma porto questo video solo a scopo educativo ed illustrativo. Partiamo dal primo RIT. AmeriCold con il ticker COLD. Un rendimento a 10 anni in realtà in questo caso è quotata solo da 7 del 49 per cento per cui stiamo su un 7 per cento anno. Un dividendo lordo del 3 e 35 per cento. A noi italiani enterebbe un 2,11 per cento netto. Una market cap di 7,1 miliardi di dollari fondata nel 2002 ma quotata nel 2018 a 16.300 dipendenti. Cosa fa AmeriCold? E' il più grande RIT quotato in borsa al mondo incentrato su proprietà che abbiano funzionamento e acquisizione e sviluppo di magazzini a temperatura controllata per cui è un RIT molto ma molto specializzato ed è l'unico per quello che io conosco così grande che faccia questo lavoro. Ha sede ad Atlanta in Georgia e possiede 185 magazzini a temperatura controllata con oltre un miliardo di piedi cubi refrigerati di stoccaggio. E' presente negli Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Canada e Argentina ma non solo ve lo faccio vedere adesso sul loro sito. Sono strutture parte di un integrante di una catena di approvvigionamento che collega i produttori alimentari, coloro che trasformano l'alimento, i distributori e poi i rivendiatori che vanno a definire la vendita ai consumatori. Vi dicevo andiamo a vedere un attimo nel loro sito internet. Come si può vedere le loro strutture sono molto grandi, hanno anche una specie di indicazione per il loro SG. Sinceramente non guardo mai questa parte perché non mi interessa da investitore, mi interessa quello che può fare l'azienda. Ha un trilione di libri di prodotto che vanno all'interno dei loro magazzini, 249 location a livello globale e sono presenti soprattutto in alcuni casi molto vicini ai porti in maniera tale che non si vada a interrompere la catena del freddo. Come sono strutturate le loro facilities? Linea di massima sono facilities particolari. Queste sono le loro distribuzioni nelle Stati Uniti d'America ma non sono solo quelle. Anche perché diciamo prima sono presenti in Brasile e vi volevo fare vedere quest'area. Praticamente la merce ha queste aree, il blast freezer dove vengono portati magari le merci refrigerate. Poi abbiamo quest'area a temperatura controllata. Qui dove arriva la ferrovia che scarica appunto i container in caso di trasporto intermodale soprattutto negli Stati Uniti è molto utilizzato, in Europa anche ma più nel nord Europa, Germania, Belgio e così via. Per cui vengono scaricate qui dal treno direttamente, vengono portate in una battitore a meno 20 poi a zero, caricate immediatamente sui camion refrigerati che poi vanno a consegnare alla merce ai vari distributori o trasformatori della merce. Un'azienda che secondo me ha un vantaggio competitivo molto importante, la sua settorialità è molto specializzata, non va sicuramente a perdere tempo in diversificare il proprio business ma dal certo punto di vista l'e-trasporto a temperatura controllata è talmente settoriale che i competitor sono pochi perché ha dei costi piuttosto importanti soprattutto in termini di energia elettrica, immaginate a sostenere tutte quelle strutture a temperature controllate sotto lo zero quanto può costare e però è un'azienda che ha un vantaggio competitivo molto importante dal mio punto di vista. La seconda azienda è un'azienda di storage, si chiama Live Storage ed è un'azienda che ho scoperto andando a valutare quella più famosa, Public Storage. In questo caso il ticker è LSI, ha avuto un rendimento a 10 anni del 133% per cui un CAGR del 13,3% su base anno, un dividendo lordo del 3,47% con un netto a noi italiani che è circa del 2,18% per cui chi avesse investito in questa azienda più o meno farà dividendo il rendimento del capital gains ed abbia portato più o meno un 15% anno in saccoccia. Market cap del 9,8% fondata nel 1982 e quotata nel 1995, tutti questi soldi con 2.200 dipendenti. E tra l'altro qui su Live Storage e sul loro sito andiamo a vedere quello che fanno, sostanzialmente fanno dello storage per cui vanno ad affittare degli spazi da utilizzare per mettere da parte delle cose, possono essere cose personali, cose di aziende. Infatti Public Storage ha anche delle unit che sono a temperatura controllata per andare a conservare ad esempio degli alimentari o comunque delle cose che vanno tenute a una certa temperatura. Possono essere anche fatti degli storaggi di autoveicoli, motocicli, barche, trailer, camper. Conliscono anche dei servizi di vendita per quanto riguarda tutte quelle che sono le scatole e tutte quelle che sono le attrezzature che servono a fare dei trasferimenti o comunque cambiare location e in più fanno anche questo servizio. Per cui è un servizio aggiuntivo. È un'azienda che da poco ha lanciato, credo che sia da due o tre anni, un'app che permette di andare a identificare tutto quello che è il loro ecosistema che è molto controllato, molto ben strutturato. Azienda secondo me molto ma molto interessante. Sicuramente non è un'azienda che ha un vantaggio competitivo unico perché sappiamo che la più grande è Public Storage ma è un'azienda che secondo me va valutata meglio perché sono quelle aziende un po' meno sulla bocca di tutti ma che possono dare a mio parere personale delle grandi cose. Andiamo a vedere un po' il riassunto quello che ho messo qui su questa slide. Comunque è un RIT azionario autogestito che opera nel settore dell'acquisizione e della gestione di strutture di self-storage. È situata a Buffalo, New York e gestisce più di 900 impianti di stoccaggio in 30 stati diversi e nella provincia dell'Ontario in Canada. Società che serve servizi di stoccaggio sia residenziali che commerciali con unità di stoccaggio affittate per mese per cui una persona o un'azienda può affittare uno spazio per un mese e poi semplicemente non affittarlo più. Attualmente ha 500.000 clienti ed è un leader nel settore. Passiamo all'ultima azienda, questa sicuramente la più conosciuta, American Tower con il ticker AMT, un rendimento a 10 anni del 259% per cui quasi un 26% anno di CAGR a cui si aggiunge un dividendo lordo del 2,41% che per noi italiani significerebbe un 1,52% netto per cui chi avesse acquistato questa azienda 10 anni fa in questo momento si sarebbe portato più o meno a casa un 28% e mezzo netto anno alla faccia di Apple, Google e così via. Anche i RIT come potete vedere dando delle soddisfazioni. Una market cap come si può vedere sicuramente elevata rispetto alle altre due che abbiamo visto prima, quasi 106 miliardi e mezzo di dollari, fondata nel 1955 e quotata nel 1998 con 6.400 dipendenti per cui opera anche lei come mordit e possiede e gestisce sviluppe immobili di comunicazione multi tenant. I suoi segmenti includono proprietà negli Stati Uniti, Canada, proprietà nell'Asia Pacifico, in Africa, in Europa e nell'America Latina. Offre anche servizi immobiliari di data center negli Stati Uniti e offre servizi, ovviamente il nome deriva da quello, relativi alle torri degli Stati Uniti per cui quelle torri in cui vanno ad apparire le antennine di comunicazione dei telefonini. Come possiamo vedere 221 mila siti globali in tutto il mondo, è presente in sei continenti i 25 nazioni e 6 mila dipendenti. Abbiamo detto Canada, Stati Uniti ma poi abbiamo anche Messico, Costa Rica, Colombia, Brasile, Peru, Cile, Paraguay e Argentina. In Europa abbiamo sicuramente la Spagna, Francia, Germania e Polonia. Abbiamo anche l'Australia. Abbiamo anche delle nazioni dell'Asia Pacifico, Filippine, Bangladesh e India e poi abbiamo anche una serie di siti nell'Africa. È un'azienda che ha sicuramente un vantaggio competitivo, è un ottimo buy. Sono aziende che hanno rintracciato in questi ultimi giorni e per cui sono tutte e tre aziende nella mia watchlist. Come vi dicevo non è l'unica e chi volesse sapere altro sulla mia watchlist sui Reeds o volesse approfondire tutte le mie altre watchlist ovviamente può abbonarsi a YouTube o iscriversi al Patreon. Torniamo alla mia brutta faccia. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video. Dammi le tue impressioni su queste tre aziende della mia watchlist parziale dei Reeds. Dammi anche una tua idea se questi possono essere dei Reeds validi oppure no, se possono essere delle soluzioni particolarmente interessanti o se secondo te ce ne sono di migliori. Spero sinceramente di avere un tuo feedback qui sotto e di poter avere da parte tua un contributo per fare crescere me e tutta la community. Cerchiamo come sempre di aiutarci a vicenda con tanti commenti, scambiandoci opinioni e aiutiamoci a crescere sempre e comunque. Come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo YouTube che non fa male a nessuno, anzi fa bene a me e anche a YouTube. E se sei nuovo su questo canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche affinché tu non possa perderti nessun contenuto successivo. Anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!